Luci e ombre sul porto di Salerno. Il parere del Consiglio di Stato che ha sollevato dubbi circa la moratoria triennale immaginata dal governo per attuare la riforma del sistema ha riportato a galla le paure degli operatori dello scalo cittadino. I sindacati sono pronti a fare di nuovo le barricate contro l'ipotesi di accorpamento con Napoli, mentre il presidente di Asso Tutela, Agostino Gallozzi, ha ribadito che il punto di partenza restano i tre anni che l'esecutivo Renzi si è dato per metabolizzare il processo di riforma della portualità italiana. Fin qui, come detto, le ombre, ma ci sono anche luci importanti. È notizia di questo pomeriggio infatti che il Cipe ha approvato il progetto da 6 milioni e 600 mila euro per la riqualificazione del molo Manfredi. Si tratta di un ulteriore passo verso l'ammodernamento e il potenziamento dell'approdo per le navi da crociera e non solo, e che si inserisce in un percorso contraddistinto dalla recente inaugurazione della stazione marittima e del futuro completamento di Crescent e Piazza della Libertà. Al posto del parcheggio attuale, come si evince dal rendering progettuale, spazio a nuovi percorsi per accogliere al meglio i visitatori che sbarcano in città. Una sorta di oasi urbana a disposizione anche dei salernitani, come ha sottolineato il presidente dell'autorità portuale, Andrea Annunziata, presentando l'opera. Con numeri importanti, il molo Manfredi si appresta ad ospitare fino a 150 navi da crociera all'anno, per un totale di circa 500 mila passeggeri, con l'obiettivo di diventare un polo crocieristico sempre più importante nel panorama campano e non solo. Grazie. 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 Grazie.